Abbiamo visto uno spettacolo in diretta, scusa Stefano, potresti farci rivedere questa cosa direttamente per il pubblico del convento. Come ti chiami? Come ti chiami? Massimo Ederle. Presentati perché potrebbe essere magari che ti chiamino da talent scout. Eh, scout le tardi però da Verona abbiamo portato qualche semplice un po' di entusiasmo. Ok, signori, lasciamo il palco direttamente a lui per questa prestazione, vai! Eccolo, un applausone. Che spettacolo! Avete visto come Massimo riesce ad andare su questa verticalizzazione direttamente con la testa e con le mani? Incredibile, Massimo sta dando il meglio di se stesso? Beh, e io direi Massimo, Massimo, rimettiti in posizione numero due per favore, vai! Rimettiti, 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 rimettiti perché io prendo lei e da questa posizione numero due rimettiti, da questa posizione numero due, ragazze, eh! Se le grabber go è un po' che aspetta in dopo era! Aspetta in dopo, va bene! Complimenti a Massimo, abbiamo visto! Un annuncio a Gerry Scotti, Gerry Scotti, se vuoi un talento per la tua trasmissione, Massimo, da Verona, lo puoi contattare direttamente qui da noi perché farà veramente un figurone la tua trasmissione. Gerry, aspettiamo la tua telefonata. Ascolta, Gerry, sono presidente di Santa Viola, la festa numero uno di Verona è mia! 20.000 persone al giorno, le faccio io! Vuoi fare uno sport promozionale di cosa? La festa grande Santa Viola! Festa grande Santa Viola! 11-20 agosto! Bello! Ok, saremo tutti alla festa di Santa Viola, Verona, con Massimo, grande Massimo! Grazie!